Che la sede della prossima giornata mondiale della juventud, nel 2013, sarà Rio di Janeiro. Pidiamo al Signore, a questo instante, che assista con sua fuerza a quanti hanno di prenderla in marcha e all'anno al cammino, a tutti i giovani di tutto il mondo, per che vogliono riuscire con il Papa, in questa bella ciudad brasilera. Per amici, prima di riuscire, e alla volta che i giovani di España, ci sono i bambini di la prossima giornata mondiale della juventud, come sucesi di Pedro, confio a tutti i qui presenti questo grande comitato. Llevare il conoscimento e l'amore di Cristo per tutto il mondo. Il vuole che siano i suoi apposti nel siglo XXI e i messaggiatori di sua felicità, non lo defraudatevi. Grazie mille! Grazie!